È un colpo durissimo quello inferto dal Covid alle imprese della manifattura e dei servizi nella provincia di Pesaro e Urbino. Il report annuale presentato dalla CNA nella cornice del rinnovato cantiere Rossini segnala il grave momento attraversato dall'economia locale e regionale. Molteplici settori in difficoltà, tra cui manifattura, turismo, servizi e cultura. Con i mercati internazionali bloccati dalla crisi pandemica, uno dei peggiori dati è registrato dall'export, meno 13,2% rispetto al 2019. Le nuove imprese nella provincia di Pesaro e Urbino calano rispetto all'anno precedente del 23,7%, mentre prendendo in considerazione il decennio 2010-2020, sempre a livello provinciale, si assiste ad una diminuzione di imprese attive per anno, che si attesta attorno ad un meno 9,4%. Tra i pochi settori che vedono aumentare le iscrizioni di nuove imprese c'è quello dei trasporti e del magazzinaggio. Cresce anche il numero di realtà attive nei servizi ad alto contenuto di conoscenza. Per quanto riguarda la domanda di lavoro, nel terzo trimestre del 2020 sono favorevoli i numeri di tutto il territorio regionale. La fotografia scattata dalla CNA si conclude con il rapporto tra assunzioni e cessazioni, che solo nella provincia pesarese rispetto al restante territorio marchigiano registra un saldo negativo, con il numero di cessazioni che supera quello delle assunzioni di circa 200 unità. La situazione è una situazione difficile perché naturalmente non era previsto in nessun modo un calo dell'export, dell'economia, delle nostre imprese, specialmente quelle manufatturiere, del turismo in questa portata. I dati più significativi della nostra provincia e regione, perché sono dati comuni sostanzialmente, sono un calo dell'export del 13%. Ricordiamo che la provincia di Pesaro vive di export, specialmente per le proprie produzioni specialistiche della meccanica, del mobile arredamento, ma il turismo, il turismo ha avuto una debacle assoluta, è stata una debacle tecnica, non sicuramente dovuta a mancanze delle nostre strutture ricettive. L'attività manufatturiera ha sofferto molto, tessile meno del 27%, mobile e meccanica con quale due cifre. Naturalmente anche nel settore del mobile arredamento non per tutti è stata la stessa, si è avuto la stessa calo, sicuramente per quello che riguarda i consumi civili c'è stato un rimbalzo, se vogliamo, per tutto quello che è legato all'impresa, alle nuove attività, ai negozi c'è stato un tracollo naturalmente. E quindi a questo dovremo affrontare in quest'anno che viene, che sarà assolutamente un anno intrapasso, come diceva bene il sindaco prima, senza un controllo e una stabilità sanitaria non c'è economia che tenga. Un ringraziamento va dato alla CNA di Pesaro Urbino per quello che ha fatto in questo anno drammatico, dove proprio su questa provincia la pandemia ha colpito pesantemente, perciò come associazione quello che loro hanno fatto insieme alla prefettura, insieme alle amministrazioni, insieme alla Regione, insieme alla Camera del Commercio, è veramente un plauso, poter dire che hanno aiutato le imprese tramite i protocolli con la Regione, i vari incontri per far sì che le imprese potessero tenere aperte quelle che in quel momento, a prescindere il colore della Regione, potevano restare aperte, è veramente un valore aggiunto. Sì, è un anno dove abbiamo toccato il fondo della nostra economia, mettendo in crisi gran parte del sistema e adesso dobbiamo ripartire. Ripartire vuol dire vaccinarsi, fare in modo che si raggiunga l'immunità di greggia quanto prima e si potrà ripartire con le nostre imprese. Noi come Regione Marca nel frattempo dobbiamo cogliere questi mesi che ci aspettano fino al rimbalzo economico che dovrebbe essere previsto nella seconda parte del 2021 per mettere in campo tutte le risorse pubbliche che ci arrivano dall'Europa, dallo Stato e anche le nostre proprie per favorire gli investimenti e nuove assunzioni.